Sì? Sì, sì Ah, scusatemi, scuola tutti ben ritrovati in questo nuovo gameplay Ma è l'ennesimo gameplay di Fallout New Vegas Titolo che, ragazzi, voi chi mi segue da tanto Mi ha visto giocare a tanto retro gaming No, tanti titoli retro PC eccetera Questo, devo essere sincero, è il gioco con più fix che abbia mai usato Usato, testato e quant'altro Cioè, giochi più vecchi, veramente rotti E bucati hanno funzionato meglio di questo Che comunque non è fatto da gente scappata di strada Oggi Albi mi ha fatto mettere un altro fix Che spero non faccia crashare di nuovo tutto Perché il gameplay precedente a questo è andato tutto Funzioni, scusate raga, lo so che dovevo bere prima Però mi è asciugata la bocca Parto, parto, parto Ormai ho dimenticato anche il numero di fix che ho aggiunto Quali ho aggiunto Non lo so più Tra l'altro questo è, ripeto, ne ho fatti di giochi rotti Che mi hanno fatto mettere qualche fix Comunque ci ho dovuto un attimo lavorare su Prima di, di appunto, giocarli live O, o, e vederli nei gameplay Questo è stato l'unico che ho avuto anche bisogno Del fix del coverty E scusate, del bust E ho detto tutto Comunque, sì Devevo Aspettare Janet Qui Sono tornato da Jack È un sogno diventato realtà Come Come Ma questo non è, non è la Scusate, questo non è di Obsidian Ah no, è di Bethesda Sempre di Bethesda Sì, è Cioè, ho giocato la Cali Widator È una roba atroce, però Sì, una maglia di colpa Comunque penso di aver risolto Il problema era sicuramente Gli HDL e il Bucino Immagino su PC, diciamo Nuovi, di fascia moderna Si è consentito di realizzare i nostri Dio questo problema Però Eh, ma Vabbè, Bethesda Ci entra poco È Obsidian Che deve fare È sempre lo sviluppatore Che si deve occupare delle facce Non le di tutte Ma io me lo devo aspettare Sta cavolo di Janet Che arriva qui Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Divano, divano, divano. Ah, anche in piedi? Adesso 5 ore basta, no no? Alla prossima. Alla prossima. Oh, è vero, anche in piedi? Quel giorno sarebbe arrivato. Grazie a te, i nostri sogni si sono reali. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. ma come sono formali vi farò guardare le dà anche del voi no vabbè ma forse hanno una vita sentimentale migliore della mia grazie per aver portato Janet a Nellis non sono mai stato così felice in tutta la mia vita ciao grazie per avervi portato qui Jack è un tipo fantastico ah veramente bravi è fin di macchina sono felice di aver visto il bombardiere in volo prima di morire ma Cluffer ti ha un capo piuttosto duro ma sa quel che fa questo è certo ok abbiamo levati sta missione dalle Bulls devo andare un attimo nell'ospedale a vedere se riesco a curare l'altro tizio che era rimasto guarda qua i lottami di ferro qua fuori ma dico io no dico io bruttati a te ti servono non lo stiamo Jack Jack dove stai Jack 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 ma quello è il vecchio non è Jack Chef dei Boomer come sono scelto hai fame o hai già mangiato basta che è la pasta dalle radiazioni è incredibile che un estraneo si sia dimostrato così utile non sono mai stato così felice che è hey Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 Zodiac Grazie a tutti 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 Una cosa Grazie a tutti Vedo che Grazie a tutti 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 Robo Grazie a tutti 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 Ehi Grazie a tutti 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 Mi stiamo Grazie a tutti 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 Quanti nemici Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Quanti Grazie a tutti 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 Allora questa Grazie a tutti 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 Andiamo Grazie a tutti 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 Ardyn Grazie a tutti 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 Ciao 10 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Salto 10-10 Grazie a tutti Grazie a tutti 10 secondi Ma come si Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 10-10 Grazie a tutti Ho sentito Grazie a tutti Ciao 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 Grazie a tutti Non so Grazie a tutti Ciao Ciao Sei 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 Grazie a tutti Ehi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao 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 Ci Ehi Ciao Grazie a tutti Ciao 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 Ardyn Anziano Sten Ero andare a controllare. C'erano un bel po' di scorpioni. Iniziamo a usarli per l'esercitazione di tiro e in men che non si dica quei maledetti ci avevano circondato. Ci demmo alla fuga e nel trambusto mi cadde la pistola. Watkins continua a dirmi di tornare a prenderla ma non lo farò. Ma tu puoi uscire vero? Potresti restituire la pistola a Torres e sistemare tutto per me. Oh, ho modificato un po' i dati quando siamo tornati. Comunque non sono ancora stato esiliato o peggio ancora mandato a pulire latrine. Splendido. Quando la trovi restituiscila a Torres. Come posso aiutarvi? Ciao. La tua presenza qui, agli estranei, non è neanche consentito sapere. Hai fatto una buona impressione sull'anziano McNamara, ovviamente. Quindi hai parlato con Ardyn, eh? Sta cercando il modo di usurpare McNamara? Non fraintendermi, è una brava persona. Ma l'anziano McNamara ha fatto il nostro bene. Ti dirò quel che ho detto ad Ardyn. Ci sono stati solo pochi casi di anziani fatti di mettere dal proprio posto e comprendevano crimini che uno come l'anziano McNamara non farà mai. Puoi guardarci direttamente se vuoi. Ti darò l'accesso a quella parte della sezione storica del nostro archivio dati. Rivolgiti all'anziano scriba Ibsen per accedervi. Sono certo che qualcuno ti ha già detto tutto ciò. Diversi anni fa avevamo la nostra sezione fuori dalla centrale solare Helios One. Il nostro anziano dell'epoca, Elijah, aveva una specie di ossessione per quel posto. Quel posto non era quasi difendibile e sapevamo che l'RNC si avvicinava. Ma l'anziano non scoprimmo mai perché gli serviva tempo. Fummo colpiti da ondate su ondate di truppe dell'RNC da tutte le direzioni. Resistemmo un po', ma erano in esorbitante superiorità. L'anziano Elijah non fu mai trovato. Quindi McNamara prese in carico e condusse quel che restava di noi in una controoffensiva. Perdemmo un sacco di uomini e donne. Ma riuscimmo a penetrare e ad arrivare qui. Non sbaglio. Chi era Elijah, forse? Era il nostro anziano prima di McNamara. Tipo in te. La nostra missione era recuperare e conservare la tecnologia del passato. Ma Elijah voleva... Quando trovamo Helios One era come un bimbo in un negozio di dolci. Continuava a parlare del potenziale del... Insistette perfino che fissassimo là la nostra base. Contro il parere di quasi tutti i paladini. Quel che seguì è un capitolo a... un capitolo a parte. Ehi, Ramos! Ehi, ragazzino! All'archivio ci vado quando torno con tutta la roba. Pocitto a tutti i tuoi di tutte le strade di corretto. P broker è avere un concorso di corretto. Edito a tutti i nostri oltretto. Chibaum sembra succhu GinzonZori e che confondiamo solo su completing un postdo... Inserilno a tutti i nostri anche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per la confraternity. 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 Aissite? Ehi, stai cercando dei rifornimenti? È un piacere fare affari con... Stai cercando dei rifornimenti? È un piacere fare affari con te. Un piacere fare affari con le rior... Che ci sono? Torniamo a fare affari con le rior... Vi工 Самbella, poteva spiega? Che è un piacere? Che è un piacere metà! Grazie a tutti. 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 Ardyn stava per iniziare un'inchiesta su tutta la faccenda e... Visto che mi hai aiutata, ecco la mia proposta. Nel tempo libero lavoro su alcune delle nostre armi guaste. Ecco, prendi questo. Spero ti sia utile. Le nostre pattuglie stanno già portando... File antimateria... Danni 57... Si, ho visto il fatto. Minerali Gia... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ce li spendo i soldi. Grazie a tutti. 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 E niente. Grazie a tutti.